Perennemente schiacciate da una guerra che dura da più di dieci anni e che, nei momenti di massima violenza, ha causato la morte di oltre 3 milioni di persone. Una forza di 7.600 militari ben armati ed attrezzati. E trerebbe una nuova arma, e una nuova arma, e tra i due anni facendo di esprimere i suoi nostri cittadini. Ti senti il re, ti senti il re, ti senti il re, ti senti il re nella scacchiera, mi è arrivata da fuori, sai che c'è? Che c'è? Mi scacco al re, che c'è? Mi scacco al re, che c'è? Mi scacco al re, che c'è? Ti senti il re, ti senti il re, ti senti il re, ti senti il re della scacchiera, mi è arrivata da fuori, sai che c'è? Che c'è? Scacco al re, e sai che c'è? Scacco al re, che c'è? Scacco al re, che c'è? Scacco al re, scacco al re. Scacco matti in due mosse, sistema suoi alfieri, tutte le pedine nere grosse, vengono a cavallo manganelle facce rosse, nelle torri hanno piani antisommosse.